La conferenza sul futuro dell'Europa sta entrando nel vivo, finalmente stiamo lavorando sulle raccomandazioni che i cittadini ci hanno fatto avere attraverso i panel che hanno discusso dei vari argomenti. Io mi sono occupato in particolare della parte relativa alla democrazia europea, ma si sono riuniti e stanno lavorando i gruppi di lavoro su tantissimi temi, dai temi sociali, ai temi della salute, dell'immigrazione, dell'innovazione tecnologica, della cultura, proposte a 360 gradi però molto simili in una ambizione comune, quella di costruire un'Europa veramente in grado di dare risposte ai problemi del nostro tempo. Un'Europa più unita, un'Europa con una più forte carica di partecipazione. Ci sono proposte molto ambiziose relative al referendum paneuropei, al superamento dell'unanimità, a cambiare il nome del Consiglio in Senato dell'Unione, con tutte le implicazioni che questo può avere, così come proposte nel rafforzare la democrazia transnazionale. Ci sono quindi molte proposte forti, penso anche sul tema sociale del lavoro, il tema del protocollo sociale nei trattati, di sostegno alle nuove normative relative ai diritti dei lavoratori del digitale, insomma temi su cui noi anche come socialisti e democratici siamo già in prima linea e che veniamo in qualche modo confortati nel nostro lavoro da queste direzioni indicate dai cittadini. Ora è fondamentale che questa conferenza nel arrivare a conclusione abbia raccomandazioni chiare da parte della plenaria, da parte del lavoro che è stato portato avanti, che rispondano alle richieste dei cittadini. C'è chi ci ha detto che dovevamo ascoltare i cittadini e non arrivare con proposte preconfezionate. Bene, ora i cittadini hanno parlato, leggiamo queste loro proposte, sono proposte forti, molte in linea con le priorità dei socialisti e democratici, ora è il momento di dare risposte, ora le parti politiche conservatrici di destra non possono dire che non va più bene perché i cittadini si sono mostrati allineati più fortemente, anche in maniera libera, spontanea, magari non incasellabile fino in fondo, ma in maniera chiaramente direzionata verso l'idea di una riforma dell'Europa, di un'Europa più forte, più progressista. Ecco, andiamo avanti in questa direzione e i governi, la Commissione europea che sono parte della conferenza con noi non abbiano paura, non siano poco coraggiosi, devono accompagnare insieme a noi un processo che dia un seguito a questa conferenza e quindi dia concretezza alle ambizioni di maggiore democrazia, maggiore partecipazione, maggiore trasparenza e quindi maggiore condivisione del progetto europeo che i cittadini ci stanno chiedendo.